marito e moglie lati tanti da 11 anni massimiliano lettere giuseppina bernardi 55 e 53 anni la loro clandestinità è finita questa mattina quando le quattro in punto i carabinieri del nucleo investigativo di napoli hanno bussato la loro porta dormivano in una delle camere che ciro bernardi padre giuseppina aveva riservato loro nella sua abitazione di merito i militari hanno monitorato quell'abitazione per molto tempo appostandosi ai quattro angoli alla ricerca di un indizio che gli permettesse di fare eruzione e concludere una latitanza decennale sui documenti della coppia un timbro di nuovo posticcio da loro impresso per evitare di fare bella mostra di sé in ufficio anagrafe dovranno scontare diversi anni di reclusione per riciclaggio aggravato dalle modalità mafiose per favorire l'alleanza di secondigliano effetto di una misura emessa nel 2004 due anni e cinque mesi per lettera due anni e sette mesi per la consorte lettera è stato portato nel carcere di secondigliano la moglie in quello di santa maria capo a vetre nei guai anche l'ospite ciro bernardi arrestato perché sorpreso con patente e carte di identità falsi e per procurata in osservanza di pena per lui i domiciliari in attesa di giudizio grazie a tutti